Pilotare un aereo è un sogno realizzabile per tutti. Basta frequentare un corso, seguire le lezioni di pratica e teoria e prendere un brevetto. Tutto questo è possibile alle porte di Milano, all'Aereoclub di Bresso, che il prossimo 26 maggio sarà teatro di un open day della scuola di volo. Durante la giornata saranno mostrati percorsi di addestramento per diventare pilota privato e pilota di linea. Sarà predisposto anche un tour dell'hangar, del simulatore e della struttura e sarà possibile effettuare dei voli introduttivi della durata di 20 minuti circa. L'Aereoclub Milano nasce nel 1926 ed è l'associazione più longeva e grande per numero di soci ed aeroplani a livello italiano. Inizialmente situato presso l'aeroporto di Linate, l'aeroclub nel 1960, a causa dello sviluppo del traffico commerciale del Forlanini, si sposta all'aeroporto di Bresso, area fin dal 1912 destinata all'attività di volo da un lascito testamentario dello Stato italiano. Qui più di 35 dipendenti e collaboratori permettono lo svolgimento delle attività di volo 7 su 7, 365 giorni l'anno. Le aule della struttura ospitano oltre ai corsi presentazioni di eventi e pubblicazioni inerenti alle attività del volo. Nell'hangar, cuore dell'aeroclub, si possono visitare una sessantina di aerei, di cui 23 sono di proprietà della scuola. Oltre all'attività di addestramento, con più di 5.000 ore di volo l'anno, presso l'aeroclub è possibile noleggiare l'aereo per un breve volo turistico oppure affittarlo per più giorni per effettuare vere e propri aerogite.